Paolo, si può finire una storia con Alla fine era tutto un sogno Ci sono molti modi di sbagliare un finale ma probabilmente il più diffuso è quello di costruire una storia particolarmente complicata piena di personaggi che sembrano quasi incredibili di situazioni che vanno oltre la fantasia possiamo dire e poi alla fine concludere dicendo che era tutto un sogno Ma perché è sbagliato fare così? Beh, per due motivi Il primo motivo è che la prima persona che ha avuto l'idea che fosse tutto un sogno probabilmente ha avuto un'idea geniale mentre tutti quelli che vengono dopo ahimè, non fanno altro che imitare Ma il secondo motivo è ben più grave perché significa deludere il lettore Noi lettori crediamo a ciò che stiamo leggendo e cioè noi abbiamo proprio la sensazione che quella che stiamo seguendo sia una storia che si svolge proprio così Per quanto folle, per quanto bizzarra, per quanto straordinaria a noi sembra vera, cioè verosimile E perché del resto non dovrebbe essere verosimile? Abbiamo creduto all'invasione dei marziani abbiamo creduto ai draghi che spudano fuoco abbiamo creduto a infallibili detective che riuscivano a risolvere i casi più complicati semplicemente stando chiusi dentro casa Abbiamo creduto ai cannibali, serial killer che si mangiavano gli amici per cena e tutto ci è sembrato in realtà credibile Perché allora rovinare una storia dicendo che alla fine era tutto un sogno Chissà, forse è solo perché tu, scrittore, non sai finire la storia nel modo giusto e allora per pigrizia, per non impegnarti, per non lavorare di più ti rifugi nel più banale dei trucchetti Ecco, impara a chiudere una storia e vedrai che non sarai costretto a dire alla fine che era tutto un sogno Il lettore te ne sarà grato Eppure tu, andrai a letto senza gli orribili sensi di colpa dello scrittore pigro Paolo, funziona di più l'happy end o il finale tragico? Prima di tutto bisogna capire che cos'è un finale Un finale non è semplicemente il momento in cui l'autore che mette il punto alla fine della storia e questo lo sappiamo tutti ma un finale non è nemmeno soltanto la conclusione delle vicende che hanno riguardato i protagonisti Il finale, per certi versi, è come se fosse la rivelazione finale scusatemi il gioco di parole del tema che l'autore, certe volte anche senza saperlo in maniera chiara sta sviluppando fin dall'inizio Alcuni finali quindi sono tragici perché non possono non essere tragici perché l'autore sta in realtà sviluppando un tema delle idee che sono tragiche Altri finali invece sono, per dire, fortunati come si dice appunto happy end perché l'autore in realtà sta scrivendo una commedia sta scrivendo qualcosa che per definizione finisce bene oppure perché nella sua storia per quanto intensa, profonda, conflittuale e combattuta i suoi protagonisti alla fine, per esempio, si sposano come avviene nei promessi sposi di Manzoni che poi sposarsi sia un happy end o un finale tragico dipende dal matrimonio, diciamo così in realtà, comunque, ricordatevi una cosa gli intellettuali amano i finali tragici mentre invece il popolo ama gli happy end e quindi i film di Hollywood finiscono tutti bene mentre i grandi romanzi generalmente finiscono tutti male ne volete una prova? Bene, nell'odissea di Omero Ulisse stranamente alla fine resta vivo torna a casa dalla moglie, si libera dei suoi invasori, i proci e addirittura rimane lì a convivere felicemente in una riconquistata coniugalità ma Dante Alighieri, che era un intellettuale non era per niente contento di questo finale e quindi che fa? Si immagina, seguendo altre storie che però nella odissea non ci sono questo Ulisse che parte e va oltre le colonne d'Ercole perché così finalmente potrà morire tragicamente e Dante lo mette all'inferno con una certa soddisfazione Paolo, è il finale che fa il romanzo? Non so se si possa davvero dire che è il finale a fare il romanzo sicuramente un grande finale aiuta a far rimanere nella mente del lettore a lungo le pagine che ha letto fino a quel momento mentre un finale scialbo, incolore, incoerente e che magari non c'entra niente con quello che è stato scritto fino a quel punto lascerà il lettore deluso, insoddisfatto e forse quando qualcuno gli chiederà com'è quel libro che hai letto lui dirà boh, sapete che non me lo ricordo nemmeno perché spesso la forza di una narrazione sta proprio nel finale e naturalmente non è che tutti possano scrivere dei finali meravigliosi come quelli che adesso io cercherò di citarvi come per esempio il finale del giovane Holden di Salinger a un certo punto riceve la visita del fratello che gli chiede che cosa pensa di tutta la storia che lui ha vissuto e lui risponde così non ho saputo che accidente dirgli se proprio volete saperlo non so che cosa ne penso mi dispiace di averla raccontata a tanta gente io su per giù so soltanto che sento un po' la mancanza di tutti quelli di cui ho parlato perfino del vecchio Stradletter e del vecchio Ackley per esempio credo di sentire la mancanza perfino di quel maledetto Morris è buffo non raccontate mai niente a nessuno se lo fate finisce che sentite la mancanza di tutti e un altro romanzo di cui mi piace tanto il finale è Le Correzioni di Frenzen è un romanzo che è tutto basato sulla storia di una famiglia e questa famiglia ha sostanzialmente due protagonisti i genitori che sono Enid e Alfred bene a un certo punto Alfred si ammala ed Enid ha cercato per tutto il tempo di migliorarlo ma lui niente e finisce così tutte le correzioni di Enid erano state inutili era testardo come il giorno in cui l'aveva incontrato e tuttavia quando morì dopo averlo baciato sulla fronte ed essere uscita con Dennis e Gary nella tiepida notte di primavera Enid sentì che niente poteva più uccidere la sua speranza niente aveva 75 anni e intendeva cambiare alcune cose nella sua vita e poi ci sono quei finali che non riguardano soltanto il romanzo che abbiamo letto fino a quel punto e riguardano in qualche modo tutti noi come per esempio il finale del Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald la famosissima ultima frase così continuiamo a remare barche controcorrente risospinti senza posa nel passato e quando un romanzo ha un finale così sicuramente non ce lo dimentichiamo Farmacia Letteraria un podcast della Scuola di Scrittura Genius se avete una domanda mandate un vocale 351 877 9461 Radio Genius se ti piace metti mi piace